Elisabetta Gregoracci posta una storia su Instagram che la ritrae alle prese con le pulizie nella nuova casa, un'amica la aiuta ad aprire e svuotare gli scatoloni. La casa inizia a prendere forma e ad essere personalizzata, come questo quadro molto bello che vediamo nella sua camera da letto, un'ultima spolverata ed è pronto per essere ammirato.